Con l'entrata in campo di Marco Spissu che va... La rimessa già effettuata dall'Umana Reijar Venezia che prova a gestire ancora con il solito Spissu che va per via centrali. Spissu ancora sportellate, ancora agganciato da Gudmundsson Parks ma va su Marco... Qualcosa in attacco forse la Virtus però guadagna qualcosa in difesa perché intanto Spissu si mette in proprio! Adesso è la scuola di Molina, Spissu subito per non perdere tempo dall'arco prova a rispondere... Spissu! L'azione di Parks, tiene aperto il palleggio, riapre per Spissu, ultimi secondi dell'azione... Marco Spissu! Reijar prova a partire, rapido in fondo, da finto su Heinz nell'angolo per Spissu che si alza da tre! Sul contatto con Willis si continua a giocare l'errore di Packer, si torna di là... Spissu, tessitori, canestro. Conquistato da Venezia, Spissu può provare a chiamare lo schema, poi si alza lui da lontanissimo! Il nuovo da Spissu, troppo contro uno su Tavernelli che non riesce a contenerlo e poi Spissu... Stevens contro Bramos che recupera la palla e poi va via Marco Spissu sotto le gambe... Willis l'appoggia al tabellone! Da poco, guardate la differenza della percentuale da tre punti, quasi 50% per Bologna, a proposito di tiro da tre punti... Blocco di Willis, Ferrer Spissu della valle su di lui, sfida tra i due diretti... Tribullet... Granger ancora per Spissu, sfidato al tiro oltre... Milano qui al Palavarvuto e Bologna in quella di Bologna... Da Granger... Prostona ancora, Spissu... Partita che vive a strappi in questo momento... E quando una squadra in difficoltà in questa partita intanto Spissu ci prova da tre punti la mette... Neanche troppo tempo la Rai a blancho attacco perché Spissu l'ha provata ad attaccare in prima battuta... Sotto, nella tasca, per il taglio di Willis... ...diciamo dalla parte opposta, cioè a favore di Napoli non avevamo problemi a dirlo intanto Spissu da tre punti... E l'umanarei... Forse anche oltre il fallo, riceve ancora Watt... Va da Spissu, che ha spazio, si prende la tripla e la mette... Tessitori... Cambio difensivo accettato da Milano... Spissu step back e tripla... Che va! A segno!